La commedia non ha un inizio e non ha una fine, e infatti comincia nel mezzo, nel mezzo del cammino di nostra vita. E su questa commedia, la commedia di Dante, noi abbiamo creato il paradigma del sistema occidentale, così come lo abbiamo costruito con la Bibbia, così come lo abbiamo costruito con i poemi omerici. Il punto è che noi abbiamo, secondo me, costruito questo paradigma su un'illusione, su un fraintendimento, cioè abbiamo costruito il nostro sistema occidentale dando per scontato di aver letto la commedia, la Bibbia, i poemi omerici. In realtà forse noi abbiamo costruito un sistema occidentale perché abbiamo letto alcuni pezzi di queste opere, o forse queste opere ci sono state raccontate, o forse abbiamo letto i commenti di queste opere. Allora, quello che provo a fare oggi con questa nuova rubrica sulla divina delusione è provare a restituire una chiave di lettura, forse anche eretica, della commedia, o comunque provare a restituire alcuni punti, secondo me fraintesi, e su questi punti dovete dubitare come dovreste dubitare di ogni punto di vista che vi viene proposto. Il primo punto di oggi, la prima delusione della commedia, è abbastanza intuitiva. La commedia non è una tragedia, e qua potrebbe essere anche abbastanza semplice. Dante scrive la commedia, la dedica a Cangrande della Scala, a Cangrande della Scala dedica la Cantica del Paradiso, ed è abbastanza chiaro, premesso che noi possiamo ritenere autentica l'epistola Cangrande, la tredicesima epistola. Molti dantisti la ritengono autentica, molti altri no. Io sposo la teoria di chi la ritiene appunto opera di Dante, o comunque è un accessus, un commento alla commedia, scritta da una persona che sicuramente era molto vicino al sistema di Dante. Cosa scrive Dante a Cangrande? Dante scrive che l'opera si chiama commedia perché parte da una materia fetida e arriva a una materia desiderabile. Quindi in qualche maniera è una commedia perché ha un lieto fine. scritta in un linguaggio che potrebbe essere comico, nel senso accessibile, un linguaggio umile, che possano intenderlo tutti, comprese le muliercule, comprese le donnette, cioè persone che non avevano accesso a dei livelli di studio alti in cui era appunto compreso il latino. E perché scrive questa commedia? La commedia scrive la commedia per allontanare i viventi da una condizione di infelicità. Le idee sono molto chiare. Il guaio è che di questa commedia noi apprezziamo solo l'aspetto tragico, cioè noi desideriamo, ci immedesimiamo e sostiamo sempre nella prima cantica. Siamo tutti pazzi per l'inferno. È la cantica più citata. Caron dimonio con gli occhi di Braggia, amor canullamato amar perdona, papesatan, papesatan aleppe. Ci sono numerosissime espressioni che in qualche maniera rientrano anche nel nostro linguaggio proverbiale. Anche espressioni falsate, non ti curar di loro, non ragioniamo di loro, qualunque cosa sia sappiamo che queste cose arrivano da Dante, o forse non lo sappiamo, ma sono dentro il nostro linguaggio. E ovviamente più clamorosa di tutte nel mezzo del cammino di nostra vita. Noi non possiamo resistere al fascino dell'inferno. Eppure Dante scrive su cento canti, sessantasei canti, cioè le due cantiche del Purgatorio e del Paradiso, dedicate alla commedia, dedicate agli etofine, dedicate alla parte luminosa dell'opera. ed è Dante stesso a chiamarla commedia. Lo fa in due punti, uno in Inferno 16, noi stiamo per vedere una creatura risalire da un abisso, da un burrone, questa creatura che è come un palombaro, nuota nell'aria, ma qui tacerno il posso e per le note di questa comedia lettor ti giuro se le non sien di lunga grazie a vote. Ti giuro lettore sulle note di questa mia opera che è una comedia. Cos'è importante? Ed è strano che lui giura la veridicità della sua opera. Noi abbiamo visto cani a tre teste, centauri, abbiamo visto già contrappassi elaborati, abbiamo già visto tutta una situazione che ha a che fare col mondo del visionario e del magnifico, del meraviglioso, però Dante, proprio quando arriva Gerione, che è questo punto, questo mostro composito che nuota nell'aria, questo mostro affascinantissimo, lui si sente in dovere di dire che quel ch'io vidi, e vidi è il verbo tecnico della testimonianza diretta. Quindi questa cosa mirabilmente vera. E l'altro punto è all'inizio del canto ventunesimo dell'inferno, così di ponte in ponte altro parlando che la mia comedia cantar non cura. Dove c'è questo cantar che ha a che fare col linguaggio epico, contrasta con questa comedia. Comedia che contrasta a sua volta, perché qua noi lo vediamo nel canto ventunesimo e nel canto ventesimo Virgilio, nominando l'Eneide, altro poema epico, parla come l'alta mia tragedia. E così il canta l'alta mia tragedia. se il mondo pagano classico cantava tragedie, perché non c'era ancora l'illuminazione finale, non c'era la conclusione salvifica, l'opera di Dante canta, quindi un poema epico cristiano, ma canta un canto nuovo, è una sorta di nuovo Vangelo, potremmo dire quasi in maniera audace, ardimentosa. In fondo, è vero che Dante non aveva aggettivato la sua opera come divina e divina gli è stato attribuito, ma la commedia è divina, è divina perché parla di Dio, parla di cose divine e ci aiuta ad arrivare a vedere Dio. Ecco appunto, in questa immagine comica di lieto fine noi facciamo fatica, noi facciamo fatica a sostenere 66 canti di lieto fine. Spesso io sento dire da critici, da studiosi, da poeti, da attori, anche quando c'è un recital dantesco dove appunto abbiamo sempre sette, otto brani dall'inferno, un paio dal purgatorio e se va bene vergine, madre, figlia del tuo figlio, dal paradiso, io sento dire che preferiamo l'inferno perché è più vicino a noi. Qua facciamo torto a Dante e facciamo torto a noi, nel senso che se proprio proprio dovessimo scegliere la cantica più vicina a noi, quella è la cantica del purgatorio. L'inferno non tratta l'uomo simile a noi, l'inferno tratta l'uomo come bestia negli aspetti disumani. La commedia è un viaggio che va dall'uomo disumano bestia, passando dall'uomo uomo nella sua fragilità che si rimette in gioco e si riscatta pentendo e perdonando con tutti i suoi difetti fino ad arrivare all'uomo di luce, l'uomo Dio in grado di vedere Dio. Ecco, questo è il percorso alchemico della metamorfosi cristiana. La commedia non è una tragedia. Ogni volta che noi sostiamo nelle acque stige negli abissi ctoni dell'inferno in qualche maniera fraintendiamo il messaggio di Dato. Una buona giornata. di Dato. Dato. di Dato. Dato. di Dato.